salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi nuovo video test come avete intuito con l'apsanzino ma avete visto anche che sotto all'apsanzino c'è qualcosa sì perché ho montato un supporto per poter montare sotto all'apsanzino i dji osmo pocket per fare un confronto fra le due videocamere c'è quella montata sull'apsanzino e nuovo prodotto dji il gimba portatile dji osmo pocket quindi ragazzi ho stampato con la stampa 3d questa specie di sella che ho fissato sotto all'apsanzino poi l'ho fissata con una cinghia con il velcro sopra e gli ho messo un supporto per gopro e allo stesso tempo ho stampato vedete ragazzi un supporto per gopro che è fatto su misura per il dji osmo pocket quindi andrò a fissare il dji osmo pocket sotto qua l'apsanzino e vediamo il comportamento delle due fotocamere perché la cosa curiosa è che questo drone e la fotocamera diciamo il dji osmo pocket hanno lo stesso prezzo praticamente il prezzo diciamo di listino è praticamente identico quindi il drone costa come la fotocamera che gli appiccico sotto quindi sono curioso di vedere il comportamento delle due fotocamere ragazzi sarà un volo piccolo perché non so il comportamento del drone c'è pure un po di aria quindi peso più aria prima di andare a rischiare sia il drone che l'osmo sarà un volo piccolo poi se tutto va bene ne faremo un altro magari anche una location un po più bella di questa e vedremo ancora meglio le differenze fra le due fotocamere anche perché ragazzi ho stampato diciamo questa specie di sella che ho fatto per l'apsanzino l'ho fatta anche per il mavic air e l'ho fatta anche per l'autelivo quindi probabilmente farò il test anche su questi altri due droni giusto per vedere la fotocamera del dji osmo pocket rapportata a quella del mavic air era portata soprattutto a quella dell'autelivo oggi l'ho preferito farla subito su quella dell'apsanzino appunto per il discorso economico che il drone costa come il dji osmo pocket e in più una cosa vantaggiosa è che sull'apsanzino è molto più facile installare il supporto qua sotto perché non ha nessun sensore sotto quindi non avendo sensori si può mettere come si vuole il supporto sotto che tanto non si va a coprire niente diventa un po più complessa la cosa perché sono pieni di sensori sotto la pancia del drone quindi magari vedremo se in quel caso montaglielo sopra anziché sotto tanto comunque per vedere la qualità delle immagini dovrebbe venire bene lo stesso quindi ragazzi adesso preparo tutto monto il dji osmo pocket sotto l'apsanzino e proviamo questo esperimento sperando che vada tutto bene ok ragazzi andiamo a montare il dji osmo pocket sotto all'apsanzino quindi vado a montare il supporto che ho sempre stampato in stampa 3d ecco qua poi vado a fissarlo sotto all'apsanzino ok stringiamo bene ok ecco ragazzi il dji osmo pocket sotto all'apsanzino mettiamolo un po più dritto perché così po storto ok quindi andiamo a stringerlo ok dji osmo pocket montato andiamo ad aprire l'apsanzino ok andiamo a togliere la copertura dell'apsanzino mettiamo qua un attimo ribaltato intanto che andiamo a mettere il radiocomando a ragazzi non l'ho ancora provata questa prova la sto facendo adesso con voi per la prima volta allora andiamo attaccare il telefono ok andiamo accendere l'apsanzino si diciamo che l'apsanzino si presta molto a questa prova perché comunque sotto non avendo nessun sensore vedete che comunque sotto è tutto chiuso si presta molto a avere questa specie di sella dame che viene fissata sotto e che tanto non avendo sensori non si va a ostacolare nessun sensore mentre con gli altri droni in effetti sotto sarebbe un po difficoltoso perché comunque sono pieni di sensori mettergli una cosa sotto diventa un po più complicata anche se si riesce però un pochino più complicata allora andiamo accendere il radiocomando allora l'apsanzino è connesso ci chiede di fare la calibrazione quindi andiamo a farla non evitare problemi inutili ok quindi abbiamo fatto la calibrazione e l'apsanzino adesso è pronto aspettiamo di avere i satelliti disponibili così che ci dia il l'autorizzazione al decollo ok c'è già autorizzati ok vado a vedere le impostazioni perché voglio registrare diciamo a 4k 30 fps sia con l'apsanzino che con il dji osmo pocket vado a vedere un attimo delle impostazioni ok adesso siamo in 4k 30 fps stessa cosa è l'impostazione che abbiamo nel dji osmo pocket quindi ragazzi adesso è tutto pronto in teoria possiamo decollare ovviamente nel dji osmo pocket non posso andare a regolare l'inclinazione del gimbal quindi sarà un'inclinazione fissa però giusto per vedere il comportamento va bene uguale nel senso che a me piace vedere la qualità dell'immagine rispetto all'apsanzino perché ragazzi vi ripeto questi due prodotti costano uguali praticamente l'apsanzino costa quanto dji osmo pocket o viceversa quindi diciamo che un confronto a livello economico alla pari quindi vediamo il comportamento di queste due fotocamere nella loro prestazione di 4k e poi alla fine tirate o tiriamo le conclusioni quindi ragazzi adesso proviamo a decollare che mi sta già scappando da ridere speriamo di riuscire senza fare un guaio perché così se cade l'osmo pocket e mi suicido vado accendere anche l'osmo pocket ok vedete che fa tutto il suo procedimento e anche l'osmo pocket è pronto quindi ragazzi guardate che belli che sono aspetta che ve li faccio vedere dal davanti il movimento di quel dji è più morbido più fluido l'altro è un po più secco però vabbè allora pronti ragazzi decolliamo ok motori accesi e l'apsanzino è ricollato mi sta venendo addosso allora pronto aapsanzino pronto dji osmo pocket ragazzi adesso possiamo partire aapsanzino aapsanzino new experience so just keep on moving to the light you are your mind and soul you ain't flying out twice at all and someday you'll see the eye where you always bring me along you are your mind and soul you ain't flying out twice at all and someday you'll see the eye where you always bring me along ok guys it was a short ride because if I had it mounted on the Autelivo I was more confident on here a little less so it was a short ride just to see the two cameras because guys obviously I was afraid that something happened because anyway the weight is not indifferently e comunque l'Apsanzino è ancora un drone che non conosco bene questo test con l'Apsanzino e il DJI Osmo Pocket è finito le conclusioni sono che il drone diciamo sente abbastanza il peso dell'Osmo quindi diventa un po' più instabile di quello che è diciamo nel suo standard quindi ho fatto un volo abbastanza piccolo per quello perché era solo per vedere le riprese giusto per però volevo prima assicurarmi che fosse in grado di supportare bene il peso dell'Osmo quindi magari poi faremo un altro video magari in una situazione un po' diversa da questa a livello di ambiente però diciamo oggi era solo un test per vedere se era in grado di sollevarlo e come si comportava in aria poi purtroppo oggi c'è anche un po' di aria quindi una difficoltà in più ancora per questo Ab San Zino che oltre all'Osmo aveva pure l'aria da gestire però dai ragazzi adesso scarico le immagini sia del DJI Osmo che dell'Ab San Zino e le confrontiamo anche se ripeto ragazzi questo è stato solo un voletto così giusto per vedere il supporto come teneva perché comunque vi ripeto lo stampato in stampa 3D ve lo faccio vedere bene vedete supporto è tutto stampato in stampa 3D quindi era giusto per vedere come si comportava il tutto poi magari lo proviamo in un'altra situazione quindi ragazzi spero che questo video teste con Ab San Zino e DJI Osmo Pocket vi sia piaciuto se è così ragazzi lasciate come al solito un pollice su iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video ciao 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 ciao